Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico che per il momento scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. Sulla 1 Panoramica si ricorda che a causa di lavori rimarrà chiuso il tratto tra aglio e ronco bilaccio in direzione Roma fino al 28 febbraio. Sulla statale 1 Aurelia sempre a causa di lavori fino al 22 dicembre sarà in vigore uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Rosignano Marittimo che rimarrà chiuso in entrata e in uscita in direzione Livorno. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto tecnico alle porte di salita di una vettura il regionale 4098 Roma-Firenze cancellato sull'intera tratta in sostituzione l'Intercity 588 e il regionale 4011 Tiburtina-Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio!